Illusioni molese, rimpianti per il rim. La quattorecesima giornata di Serie C si sviluppa intorno a questi capisaldi, rendendo ancora più intricata la corsa per la salvezza. Di sicuro la squadra di Cioffi ci ha messo ancora una volta molto del suo anche nel KO di San Benedetto del Tronto, coi biancorossi che incappano nell'antico vizio di compromettere una gara ben impostata con un errore difensivo, quello che al 69esimo permette alla Samba di sfondare sulla destra con Volpicelli e di Massimo che anticipa più che altro Frediani per colpire indisturbato e battere Scotti. A dieci minuti dal termine ecco materializzarsi anche l'ennesima espulsione di questa stagione, protagonista il recidivo cigliano che intercetta un pallone vagante col braccio e allora la Samba ed è tese a tutto l'agio per chiudere i conti con l'azione personale di Frediani, che affonda la lama nel burro di una difesa ormai a maglie troppo larghe per siglare il 2-0. I Molesi invece non sfigura Pesaro, passa in vantaggio a fine primo tempo con la zampata di Ngissà che intercetta il diagonale di Belcastro per sorprendere Bianchini sul palo più lontano. Il pareggio arriva però a inizio ripresa. Voltan mette qualcosa a metà fra un cross e un tiro, nessuno interviene e Rossi è beffato. A dieci dal termine ci sarebbe gloria anche per Boccardi ma la conclusione vincente del giocatore rosso-blu è viziata da un fuorigioco. Finisce 1-1 al Tonino Benelli.